Io sono Marco, io sono Lia, siamo napoletani, siamo a Milano da qualche anno e da uno abbiamo deciso di aprire questo piccolo ristorantino. Perché l'idea promozionale è più completa, più dinamica rispetto a quelli degli altri dealer, si chiamano così se non sbaglio. Noi abbiamo iniziato la nostra attività da poco e sappiamo cosa vuol dire partire, doversi muovere, essere dinamici e quindi ci piace anche coinvolgerci insieme ad altre aziende che adesso stanno nascendo perché ne abbiamo tutti quanti bisogno di iniziative e di inventive.